come lo dico scherzato tu permetti di mettere in mano a una persona se non era uno scherzato punto ah ok lui ti metto in mano in giù e mettere in mano a faccia la gente perchè da giù puro chiama perché le camarada eh si perchè mi ha fatto male a faccia 1 2 sto mettendo la scopita più dolce di te no vedi io sono andato a mano a mano con te si perchè esce così no? perchè ancora devi andare perchè se prendi play non esce così ecco fatto se li sovraffolli della sala basta levalo andiamo fate pace no ti amo più tante no vi prego basta fate pace chi ha ragione Maria? io dai ragione a lei ho ragione io luca puoi chiudere la volta uscire l'acqua che c'è il clima è brutto stai un momento a girarci mentre ci possono più mettere che luca devi andare via che fai? luca devi uscire la presentanza luca puoi uscire? scusa ma perchè luca deve uscire scusa è anche camera sua e scoprire che la do più dolce di te questa foto del cazzo poi io mettere la parte nostra anch'io con la frase barilla ah barilla si diciamo bene non l'abbiamo svelato quella è la frase barilla cazzo vuol dire questa barilla nel senso che è il proprietario della frase è barilla andando barilla basta ah grazie mi ha sbagliato la denta basta spegni Anna Maria spegni ti prego Anna Maria basta dai ma basta me ne rompi me ne rompi me ne rompi io me ne vado mi sono eliminata vai me ne vado giù vai basta ricollegati ricollegati c'è la linea quindi devi venire i colleghi io ti odio ricordalo Martina devi ricollegarti non puoi fare guardare i video alla sua volta ma sei dritto ma mi rotto le nuove le cosa? Anna Maria puoi fregnare il piacere? si ve lo spegno saluta ho detto saluta Anna Maria saluta io stacco ciao